come dire, nella coalizione guidata da lei, non ci sarà posto per estremismi e populismi, questo me lo conferma, no? Sa cosa dice Salvini Juncker? Glielo leggo letteralmente. L'Europa di oggi è governata da uno come Juncker, che per quasi vent'anni è stato al governo di un paradiso fiscale come il Lussemburgo, che non ha pagato le tasse, massacrando artigiani, commercianti, professionisti e piccoli imprenditori. Come fate? Lei gliela ha detto a Juncker che Salvini la pensa così su di lui. No, sì, guardi, Salvini ha detto queste cose più di un anno fa e quindi era una critica alla Commissione Europea che aveva fatto qualche provvedimento su cui lui non era d'accordo. Però noi siamo una coalizione e aveva ragione probabilmente Salvini perché l'Europa oggi non è l'Europa dei popoli che hanno sognato i fondatori, Adenauer, il nostro De Gasperi, eccetera. È diventata un'Europa di burocrati e se oggi andassimo a fare quei referendum che sono stati fatti in Inghilterra, non so quanti siano i paesi che non voterebbero come l'Inghilterra per uscire dall'Europa. Oggi l'Europa è sentita come una burocrazia che fa provvedimenti ottusi ed assurdi, che si sovrappone e aggiunge alla burocrazia statale, alla burocrazia locale di cui tutti noi non ne possiamo più. Quindi, ritornando alla sua domanda su Salvini, è chiaro che Salvini è un altro partito, ha un altro modo di esprimersi, hanno un altro stile, hanno un altro pubblico di elettori. Quindi lui cerca il voto di questi elettori. Ma poi, da coalizione vera, ci siamo seduti a un tavolo, ci siamo stati tutto il tempo necessario e alla fine abbiamo approvato un programma in dieci punti che...